Date testimonianza di speranza con la vostra vita e confortatevi a vicenda perché è certo l'incontro finale con il Figlio di Dio. Sono le esortazioni che Papa Francesco ha formulato nella cappella della Casa Santa Marta durante la Messa. Dopo la pausa estiva, il Pontefice ha ripreso gli incontri mattutini e, guidato dalla liturgia, ha ricordato che il Signore verrà a cercare ogni individuo con la sua bontà, una certezza che deve dare conforto e speranza. E questo è il consiglio. Confortatevi. Confortatevi a vicenda. Parlare di questo. Io vi domando, noi parliamo su questo? Che il Signore verrà? Che noi incontreremo Lui? O parliamo di tante cose, anche di teologie, di cose di Chiesa, di preti, di suori, di monsignori, di tutto questo? E il nostro conforto è questa speranza. Confortatevi a vicenda. Confortatevi in comunità, nelle nostre comunità, nelle nostre parrocchie. Si parla di questo? Che siamo in attessa del Signore che viene? O si chiacchiera di questo, di quella, di quella, per passare un po' il tempo e non annoiarsi troppo?